Un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, attraverso il canale di YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via che vorrà Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani bellunesi di oggi, ovvero di giovedì 15 ottobre 2020. E diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nelle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, ovviamente la notizia in primo piano a piena pagina riguarda sempre l'emergenza Covid-19 in provincia di Belluno ed ecco il titolo Covid piano per salvare il turismo. Ieri il primo incontro tra il direttore generale Rasi Caldogno e il direttore dell'Ascom dal Poz per condividere le strategie. Intanto per trarre parti del blocco chirurgico dell'ospedale San Martino si è resa necessaria la sospensione per dieci giorni. Ascom guarda avanti e tutela di una stagione invernale che dovrà mettere in conto anche le nuove regole in materia di distanziamento sociale previste dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo fa intanto mettendo le premesse per un'aleanza che già per la stagione estiva ha funzionato. Intanto alla luce della diffusione del contagio si è resa necessaria la chiusura del blocco chirurgico del San Martino per dieci giorni. A subire modifiche saranno le attività in agenda dei tre reparti delle strutture. L'approfondimento di Dedona e Piol lo troveremo a pagina 2 e 3. Per quanto riguarda invece la foto di copertina, Auronzo, due i denunciati dai carabinieri forestali sequestrata di scarica sotto alle tre cime. L'indagine condotta dai carabinieri forestali di Auronzo ha permesso di identificare e denunciare i responsabili del traffico di materiale ed ile gettato in diverse occasioni ai piedi delle tre cime di Lavaredo nelle vicinanze del lago di Misurina. Fondi di confine arrivati ai comuni 7,5 milioni di euro. La somma verrà suddivisa tra 15 municipi della provincia di Beluno. L'approfondimento di Santin a pagina 7. Riva Monte, Valle Imperina, ecco il cantiere per sistemarla. La provincia investe 1 milione e 400 mila euro nel consolidamento della strada Valle Imperina franata sotto l'ondata di maltempo. Alti richiami di spalle. Belluno, ex caserma Piave e scontro sul futuro. Feltre e le palestre scolastiche tornano allo sport. E ancora capannone agricolo in fiamme. I danni sono ingenti. Siamo scombussolati ma per fortuna stiamo tutti bene. Sono state le prime parole di Giuseppe Varotto dopo che ieri pomeriggio un incendio di grande dimensione ha interessato uno dei suoi capannoni in via Triva Sedico provocando danni da migliaia di migliaia di euro. Nessuno dei lavoratori e degli animali accanto c'è una stalla con 50 tori. È rimasto coinvolto dalle fiamme ma la paura è stata tanta. È successo tutto all'improvviso, ha spiegato Varotto. Un uomo che passava di là si è accorto del fumo che usciva da una delle stalle e mi ha avvisato. Mi sono messo a correre. L'ongarone è morto Antonino Vicari sotto Santi, uno dei protagonisti del Dopovayont. Si è spento nella notte fra martedì e mercoledì. Antonino Vicari sotto Santi aveva 84 anni. Nino per gli amici, come ricorda il senaco Roberto Padrin. Con lui, afferma il primo cittadino, se ne è andato un altro importantissimo pezzo della storia del Dopovayont. Ha contribuito a far rinascere il paese. Questa è quindi la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Anche in questo caso notizie principali riferite all'emergenza Covid-19. Un'arriva dal virologo Crisanti che annuncia lockdown a Natale. La proposta del microbiologo. Il sistema è già saturo. È da resettare. Così possiamo abbassare la trasmissione del Covid. Andrea Crisanti è preoccupato per i dati degli ultimi giorni e propone un lockdown verso Natale per resettare il sistema. La foto di copertina riguarda il turismo bellunese. DM è in ritardo. La provincia cerca di salvare i progetti turistici. L'approfondimento di Aliprandi lo troveremo a pagina 17. E sempre in merito al Covid-19. In provincia di Belluno, Ponte, si allarga il focolaio in RSA. Positivi 15 ospiti, 8 operatori. Case di riposo al centro dell'attenzione. Dopo Cortina tocca a Ponte, nelle Alpi, alla Mono. L'approfondimento di Dallanese a pagina 8. Feltre. Le palestre delle scuole riaprono alle associazioni. L'amministrazione fa un assist alle società sportive per l'utilizzo delle palestre scolastiche. E ancora denunciati due imprenditori. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Del gazzettino, scusate, una discarica abusiva ai piedi delle tre cime di Lavaredo. E ancora l'incendio distrugge un cappanone di fiedo nell'azienda Varotto. Addentriamoci quindi nella lettura del Corriere delle Alpi. Per poi passare all'edizione del gazzettino di Belluno. Breve panoramiche in merito alle notizie di carattere nazionale e internazionale. Pagina 2. Ed ecco che si presenta il grafico dedicato all'andamento dei contagi da inizio pandemia. E come possiamo vedere il picco lo abbiamo avuto per quanto riguarda il nostro paese l'Italia il 21 marzo con 6.557 contagi in un giorno, 793 morti e con 26.336 tamponi. Il dato invece di ieri, ovvero di mercoledì 14 ottobre, i contagi sono stati 7.332 con 43 morte ma però con 152.196 tamponi. Quindi decisamente di più rispetto al mese di marzo. Quindi si presuppone che in realtà se si fossero fatti 152.000 tamponi il 21 marzo probabilmente i contagi sarebbero stati decisamente di più. Ma questo è il titolo che accompagna il grafico. I contagi superano il picco di marzo. Adesso Conte teme nuove chiusure. Se la diffusione crescerà, previsti stop ammirati. Cinema, bar, parrucchieri, negozi. Ma fabbriche e aziende continueranno a rimanere aperte. La situazione in Italia, i ricoveri in terapia intensiva. Altro grafico da settembre a ottobre vediamo in continua crescita. Siamo passati dal 29 settembre con circa 260 ricoveri in terapia intensiva. Il dato di ieri, aggiornato alla data di ieri, ovvero di mercoledì 15 ottobre, ci porta a 539 ricoveri in terapia intensiva. Per quanto riguarda il Veneto, ieri sono stati registrati 657 nuovi casi, fortunatamente con zero vittime. A Milano torna l'incubo del blocco dell'attività. Fontana, il presidente della regione Lombardia, ammette non possiamo prevedere assolutamente nulla. In Lombardia i positivi ieri sono stati 1.844 su 48.000 tamponi fatti. L'emergenza coronavirus svolta dal governo. Si può licenziare la CGL, un milione di posti a rischio. Da inizio gennaio cade il divieto per Covid. La CGL, la Cassa Integrazione, si allunga. Incentivi per chi assume, conte sul MES, niente ideologie. E il Covid ha stravolto interi settori impossibili. Gli organici di prima. Il presidente di Asso Lombardia, Alessandro Spada, vedo segnali incoraggianti di ripresa. Giusto a cancellare il provvedimento, era giustificato dall'emergenza. Ora esiste solo in Italia. E in questa edizione del Corriere delle Alpi troverete le previsioni di Confindustria. Un grafico da leggere attentamente. La disoccupazione in percentuale era nel 2020 del 9,8%. Si prevede che passi al 12,4% nel 2021. Il deficit della pubblica amministrazione in PIL, 10,8% nel 2020, 5,8% nel 2021. Il debito pubblica amministrazione PIL, vedete che non è più in percentuale, ma si parla in questo caso di miliardi, 158,7 miliardi per quanto riguarda il 2020 e 156,5 miliardi per quanto riguarda il 2021. Ma ecco la notizia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi. Lockdown a Natale per fermare il virus proposta del microbiologo Crisanti. Servirà a spezzare la catena dei contagi e a dar respiro agli ospedali vicini al collasso. Questa è un'intervista di Paolo Russo al microbiologo Crisanti. Vedremo solo fra due settimane se le azioni dell'ultimo DPCM sono davvero efficaci. Questa è la dichiarazione di Crisanti che troverete in questa intervista del Corriere delle Alpi. Caso immuni, bufera sulla regione, le Ursle non hanno caricato i dati. Questa notizia riguarda il Veneto, l'app per tracciare i positivi nel Veneto funziona a vuoto. Opposizioni all'attacco per il disservizio. E adesso la notizia che riguarda il bellonese. Ovviamente sempre in merito all'emergenza Covid-19. 9 focolaio a ponte positivi, 15 ospiti della RSA, un anziano ricoverato nell'area non critica del San Martino. Situazione stabile alla Maioni, visite sospese alla Gaggia Lante. E questo è il bollettino. 33 nuovi contagi, due pazienti in terapia intensiva. Ci sono 33 nuovi positivi in provincia. 11 sono riferiti alle case di riposo. 10 a comuni del Comelico Cadore Ampezzano. Gli altri a singoli contesti in ambito provinciale. Si tratta in prevalenza di persone che hanno effettuato il tampone di controllo in quanto contatto di caso e quindi già isolati. Sono 26 ricoverati nell'area non critica a Belluno. 10 a Feltre. Due pazienti della terapia intensiva a Belluno. E in provincia i casi in aumento a Cortina e Auronzo. Oggi scadono le ordinanze restrittive imposte dai tre sindaci di Santo Stefano, San Pietro e Comelico Superiore. Siamo in regressione. Questa la dichiarazione. Gli esiti nei fasti. I decesso a San Martino. 126 morti dall'inizio della pandemia. Nella notte tra martedì e mercoledì. È deciduto all'ospedale di Belluno dove era ricoverato da qualche tempo nel reparto di pneumonologia un paziente di 73 anni di San Vito. L'uomo che soffriva di diverse patologie non è scampato all'attacco del coronavirus. Si tratta del secondo cittadino sanvitese scomparso nel giro di tre giorni per gli esiti nefasti del virus su persone già fragili. Il primo, anche lui ricoverato a San Martino, è stato salutato per l'ultima volta proprio ieri. E nel Feltrino, centro servizi di Lamon, quattro operatori positivi e 15 persone isolate. Da Belluno quarantena a dieci giorni, un solo tampone finale. Questo per quanto riguarda la circolare ministeriale. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi, pagina 9. Mincione usa l'obolo per sé. Il Vaticano sapeva dal 2016. Il Gardinale Beccio conosceva le opacità della gestione del fondo Atena. Le email del segretario di Stato confermano. Ma nessuno è intervenuto. Andiamo avanti con le notizie che riguardano in questo caso la regione Veneto. Zaia 3 pronto a salpare con il bicolore di Fratelli d'Italia. Il Presidente Ciambetti verso il BIS al Ferrofini. Ma da Roma Tagliani chiede il rispetto dei patti di coalizione. Fratelli d'Italia in giunta. Ecco quindi la nuova assemblea regionale che troverete in questa edizione del Corriere delle Alpi. Quindi tutti i consiglieri suddivisi per provincia, suddivisi per liste e anche per quanto riguarda le preferenze che hanno ricevuto. Quindi una pagina da leggere in modo approfondito. Al Movimento 5 Stelle sono stati attribuiti 81.000 voti con il cuono del 3% fissato a 63.109. Gli azzurri dopo 25 anni non avranno un assessore a Palazzo Balbi. Ovviamente in questo caso la notizia riguarda il partito di Forza Italia. Ancora dalla Regione Veneto, banda ultralarga, cantieri al palo. Le risorse sono state dimezzate. Serve un nuovo piano per i lavori con l'emergenza Covid. I fondi FSR sono passati da 35 a 16 milioni. Ed ecco qui un grafico, una tabella e una mappa che rappresenta la banda ultralarga in Veneto. Progetti definitivi approvati, progetti con ordine esecuzione emesso. 279 comuni, vedete che la nostra provincia riguarda principalmente la zona alta. Interventi compose in fibra ultimati. Ed ecco qui alcune zone della provincia di Belluno comuni con certificato di collaudo emesso. E in provincia di Belluno abbiamo quello di Alano. Due operai sepolti dalla terra, uno muore. Purtroppo una tragedia. In Veneto siamo a Padova. Stavano lavorando su una condotta dell'acquedotto a tre metri di profondità. All'improvviso la frana che li ha schiacciati. Il cedimento appare inspiegabile. Verifiche sui dispositivi usati per puntellare le pareti. Purtroppo anche nel 2020 si muore ancora nell'ambiente lavorativo. Andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Pagina 17, progetto marketing Eurac DMO in ritardo. La provincia studia un piano di salvataggio. Padrini in futuro sarà gestito da un team di cui farà parte anche il consorzio, ma con un ruolo ridimensionato. Mi riservo di avere la ricognizione precisa di quanto ho fatto per dare un giudizio. L'articolo affirma di Irene Aliprandi. Il 31 dicembre scadono i termini per l'attuazione del piano di marketing territoriale da 5,775 milioni di euro elaborato da Eurac nel 2017 e finanziato dal Fondo dei Comuni di Confine con 5,5 milioni di euro. Soldi assegnati alla provincia per affidare progetti e azioni elaborate dal consorzio DMO in coerenza con il piano Eurac. Qualcosa però si è inceppato. Il 2 settembre il presidente della provincia, Roberto Padrini, ha firmato un atto con il quale si rileva che il lavoro svolto finora presenta delle criticità ed è necessario un deciso cambio di passo. Al fine di aumentare l'efficienza gestionale del progetto e ridurre i rischi di non conseguire gli obiettivi, scrive il presidente nel nuovo atto di settembre, la provincia ha affidato a un project manager il compito di elaborare e avviare un piano di recovery management che, tradotto in parole povere, è un piano di salvataggio rispetto al lavoro fatto dall'ADMO in questi anni. Miglioreremo i meccanismi. A questo serve il professionista chiamato a supporto, Palazzo Piloni è titolare delle risorse derivanti dal fondo comuni confinanti. Pagina 18, Dolomiti accessibili, 23 percorsi per anziani, famiglie e disabili. Sul sito della Fondazione Dolomiti Unesco c'è una mappa interattiva che consente di scegliere il tracciato più adatto. La delettrice Morandini tutti possono avere un'esperienza di vera immersione. Pagina 19, precari in piazza, vanno stabilizzati, storie di insegnanti che passano da una scuola all'altra e ora attendono con apprezzione l'agoniato concorso. Stalla a fuoco, brucia il fieno, animali salvi, vigili al lavoro sotto i fari per tutta la notte, danni ingenti, le fiamme in un capannone di mille metri quadrati, sacchette, stavo arrivando nelle stalle, ho visto il fumo. Ed ecco alcuni scatti, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, del momento dell'incendio che si è scaturito in una stalla presente nel comune di Sedico. Una cinquantina di tori sono stati tratti in salvo, erano in una struttura vicina, è un allevamento tra i più importanti. L'emergenza, gli idranti poco funzionanti, i rifornimenti fino in zona Gresal, nell'area dell'incendio, ce ne sono ma non risulterebbero pienamente utilizzabili, autobotti a sirene spiegate lungo la strada interna. Si parla di lavoro, in questa edizione del Corriere delle Alpi, aziende in difficoltà non trovano operai specializzati artigiani, il personale manca dall'edilizia al settore alimentare, l'analisi della Camera di Commercio sulle professioni. Il presidente Pozza, i nostri tirocini danno buone risposte, dobbiamo generare percorsi virtuosi. Feltre, la guida ambientale può accompagnare in gita sulle ciaspe, Feltrino prosciolto, un quarantasentenne, era stato denunciato da una guida alpina per un'uscita in Val di Zoldo, il GIP di Belluno ha archiviato l'associazione Aeghe, reato infondato, ribadite professionalità e la nostra formazione. Notizia di spalle, la cooperativa Mazzarolo è finito un incubo, ma sapevamo di aver operato secondo le norme, quindi un ulteriore approfondimento rispetto alla notizia appena letta. La presidente Rossi, lavoriamo tutti in montagna facendo attività diverse. Ancora da Feltre, firmato l'accordo per riaprire le palestre di scuola alle società private, si parte con gli impianti della Rocca e del Boscariz, in preparazione all'intesa per la struttura dell'ex Luzzo. Arsì, una discarica nel bunker, ci pensano gli speleologi. I volontari del CAI Feltrino hanno lavorato in galleria per rimuovere le immondizie, portati via molti metri cubi di materiale abbandonato anche da decenni. Ed ecco uno scatto che ci fa davvero capire quanta immondizia era presente, ahimè quanta inciviltà, ma nello stesso tempo quante brave persone ci sono perché hanno fatto una lodevole raccolta. Bravi davvero al CAI e a tutti i suoi volontari. Pagina 25. Morto Vicari Sottosanti, medico di base per 40 anni. Arrivato nel 1966 dalla Sicilia con gli anni era entrato nel cuore dei suoi pazienti. La commozione del sindaco padrine se ne va a un pezzo di storia della nostra comunità. Consiglio comunale infuocato, siamo a Ponte nelle Alpi, Ponte Servizi è scontro, il comune spiega ora conti in ordine. Da Borgo Valbelluna, violenza sessuale, assenti testi chiave, il collegio ha sanzionato i parenti della parte lesa e ha ordinato la visita fiscale alla donna che non si è presentata in aula. Gli auguri del CAI Longarone, buon ottantunesimo compleanno al presidente uscente Bruno De Michele. Ponte nelle Alpi, ex venditore assolto, non intascò l'assegno fatto di cronaca giudiziaria. Ancora da Borgo Valbelluna, il lupo fa disastri ma non chiudo per i miei bambini. Bernardi non si arrende dopo l'uccisione di tre daini e cinque pecore, la sua fattoria didattica ospita quasi 200 animali. E in Cansiglio, siamo a Tambri, i carnivori sono tornati sul luogo del delitto, seguivano il trattore, l'allevatore Alex Gava. Volevamo recuperare le carcasse delle nostre pecore, ma abbiamo preferito non scendere dal mezzo. Pagina 27, la vecchia strada di Listolade diventerà ciclopedonale, lavori in corso tra Traibone e Cencinighe per sistemare gli argini del Cordevole, interventi anche sulla comunale della Corpassa e sul Rue delle Palette. Appaltati i cantieri per il rifacimento delle strade di Vallesine e di Cavarzano. E sempre da Agordo, Agordo, la via della Dolomia racconta le montagne belonesi sabato l'inaugurazione. Pagina 28, Cortina, piscina di Guarnier, lavori in ritardo, slitta la primavera all'avvio del cantiere. Entro un mese, l'assegnazione del progetto definitivo, la ristrutturazione potrebbe iniziare il prossimo giugno. Auronzo di Cadore, una discarica dei rifiuti ed ili a due passi dal lago di Misurina. Un anno fa la scoperta dei carabinieri forestali di Auronzo, poi le indagini smascherate e denunciate e responsabili sono due imprenditori del posto. Prima di leggere la rubrica giorno e notte, passiamo alla lettura del Gazzettino di Belluno. Ovviamente spazio all'emergenza Covid-19. Siamo a pagina 2, un patto ASCOM-USL per tutelare il turismo. Questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Ieri l'incontro tra Confcommercio e il direttore generale dell'azienda sanitaria. È cominciato il dialogo per valutare le misure in vista della stagione invernale. Per chi opera nel settore ricettivo, la collaborazione con la sanità in questo momento è indispensabile. RAI e Fondazione Isi nel Merino. Non siamo noi i più contagiosi. Bond contro il Tg1. Lettera al Comitato di Vigilanza. Bottacin non è stato considerato il numero dei tamponi. Non contesto i dati. In una provincia che vive di turismo non si può fare un servizio di questo tipo. La notizia riguarda quanto detto ieri anche nelle pagine del Gazzettino di Belluno in cui si annunciava, si comunicava che la provincia di Belluno era la provincia più pericolosa a livello nazionale per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Timori di una moschea nell'ex caserma Piave. Siamo a pagina 5. Il comune mette all'asta parte dell'edificio, ma l'unico interesse arriva dall'Associazione Islamica che ha già sede nello stabile. L'opposizione insorge, sollevando dubbi sulla vendita di un bene rigenerato con fondi nazionali e sul fattore sicurezza. Notizia che riguarda il capoluogo bellonese. La controparte a Zizza Amari. Facciamo convegni interreligiosi e cene solidali per la comunità. In questa edizione del Gazzettino di Belluno troverete un elenco degli investimenti dei fondi di confine, ripartizione dei fondi di confine. In totale parliamo di 7 milioni e 500 mila euro. Sono così suddivisi 500 mila euro per Arsie, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della viabilità e strutture di servizio al cittadino, 500 mila per Auronzo di Cadore, progetti a sostegno dello sviluppo di Auronzo di Cadore per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 annualità 2020, 500 mila euro per Canale Dagordo, ottimizzazione della viabilità frazionale, completamento e ricalificazione degli impianti sportivi comunali, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, 500 mila euro per Cesio Maggiore, valorizzazione del territorio comunale, sistemazione di piazza a mercato, miglioramento della viabilità in località Pez, e nuova area giochi attrezzate in via Gray, 600 mila euro per il comelico superiore, ricalificazione urbana e arredo urbano del centro storico di Padola, piazza San Luca al lato sud-est, 548 mila, 668 e 65 per Cortina d'Ampezzo, nuovo centro per il curling nello stadio olimpico del ghiaccio, commessa in sicurezza, potenziamento e adeguamento dell'impiantistica esistente, 700 mila euro per Falcade, acquisto di un immobile per consentire all'associazione di primo soccorso di ricoverare i mezzi, 625 mila euro per Feltre, valorizzazione e promozione turistica e commerciale della città di Feltre, 500 mila euro per Gosaldo, restauro e risanamento conservativo dell'immobile comunale ex scuole medie, 500 mila euro per Lamone, efficientamento energetico, 500 mila euro per Livina Longo del Col di Lana, miglioramento del parcheggio ad uso turistico, lecretà Pieve, 500 mila euro per Roccapietole, realizzazione di un manufatto di interesse pubblico a servizio delle maestranze comunali per ricovero di mezzi, 500 mila euro per Sovramonte, riqualificazione degli impianti sportivi comunali e potenziamento della nuova palestra comunale, ancora 500 mila euro per Taibona Gordino, completamento interventi in atto volti al miglioramento dei servizi nell'ambito dello sviluppo turistico, 551 mila euro Voltago a Gordino, riqualificazione del Viale della Vittoria, via principale di Frassenè a Gordino. Per interventi nei comuni, 7,5 milioni a disposizione, 15 municipi belunesi hanno ottenuto 500 mila euro, lo avete sentito anche dall'approfondimento della tabella presente, il presidente De Mene che per semplificare e aiutare tutti, subito un anticipo del 30%. Amministrazione più efficiente con i corsi per la digitalizzazione, provincia, concorso BIM e Piave, Unione Montane e enti locali assieme per intercettare i fondi a disposizione. Pagina 7, furto di gasolio, il dipendente ora si difende e fa ricorso, impugnato il provvedimento comunale, l'udienza è stata fissata per il 9 di dicembre. Precari della scuola in piazza contro le date del concorso, Walter Guastella, CGL Scuola, sono prove condizionate dall'emergenza del coronavirus. Passiamo a pagina 9, Feltre, Bosca Rizza e Rocca, le palestre anche dalle società sportive, notizia di cui abbiamo già letto nell'edizione del Corriere delle Alpi, notizia di spalle invece ci porta a Santa Giustina, dalla pasticceria all'imballaggio, Oscar a Unifarco, Gianni Baratto, anche in questo caso fondamentale la nostra consueta attenzione all'ambito della sostenibilità. Pagina 10, addio al medico venuto dal sud, fu protagonista nel dopo Vaionta, Antonino Vicari Sottosanti, 84 anni, è morto la notte scorsa a Mogliano. Padrin amò subito la nostra comunità, contribuendo ad alto livello alla rinascita sabato i funerali. Borgo Valbelluna, processo per violenza, ma l'accusatrice non c'è, assenti tutti i testi della pubblica accusa, multati dal giudice. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi, come questa dell'incendio avvenuto in una stalla nel comune di Sedico, paura per i tori, l'incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in via Triva, nell'azienda agricola dell'allevatore Giuseppe Varotto. Discarica vicino al lago, due denunce, operazione dei carabinieri forestali che sono risaliti ai responsabili di tonnellate di inerti, scaricati a Misurina. I militari hanno passato a setaccio tutte le concessioni di elizie, i lavori di ristrutturazione, risolvendo il caso. Da San Vito di Cadore, ultimi ciacca a Musico per il serial più visto. Parliamo della serie che va in onda su Rai 1, a un passo dal cielo, che ha visto come protagonista quest'anno la provincia di Belluno e principalmente la zona alta. Pagina 13, ecco le notizie di carattere sportivo, calcio di Serie D, altro che derby, l'Union affonda. Dopo la bella vittoria di domenica, il Feltre perde l'imbattibilità a Porto Tolle, e l'ex episcopo a condannare i Verde Granata regalando i tre punti al Delta. Questo risultato 1-0 tra Delta Porto Tolle e Union Feltre. Ancora dallo sport, ecco Pranic, mi piace l'idea di costruire iniziando da zero un guro croato della pallamano alla polisportiva Mondo Sport. In Svezia, allenavo delinquenti come sono diventati persone prima che i giocatori qui a Belluno trovato un progetto serio. Ex giocatore anche nella Serie A italiana, d'Arco è stato convinto dal dirigente Edmondo Ortese, serviva una svolta. E sempre dal calcio è già in il Sassuolo di Nicole, bella doppietta della Zumelese da Canale, al debutto con la nuova maglia della primavera del Sassuolo. Pugilato, Sara promessa della box, la cadorina Pincine, medaglia di bronzo ai campionati italiani junior 60 chili, l'allenatore Barnabò, un bel talento. Dall'agenda, bellunesi nel mondo, futuro a rischio, grido d'allarme della BM, diviso tra una situazione economica del Museo delle Migrazioni, definita drammatica, è una condizione molto preoccupante della stessa associazione. Il presidente Oscar De Bona, nessun contributo pubblico a fronte dell'emergenza sanitaria. Il Covid-19 mette in ginocchio anche il Museo Interattivo delle Migrazioni, su tre risorse vitali all'associazione beronesi nel mondo. Dalla sede in Via Cavorure, in Belluno, parte quindi un grido di dolore per il MIMI in particolare, in generale per tutta l'ABM. Sembra un vero e proprio campanello d'allarme circa la sopravvivenza di quell'importante presidio culturale posto a salvaguardia della memoria del fenomeno migratorio nel contesto della storia della nostra provincia. Il presidente Oscar De Bona lancia l'allarme. Nel 2020 niente visite per 2.000 studenti, per il 2021 la prospettiva economica è drammatica. A fronte dell'emergenza sanitaria nessun contributo pubblico per gli investimenti per renderlo accessibile. Con segnaletica, dispositivi di igienizzazione sanitaria, attivi 24 ore su 24 delle sale museali, formazione del personale, gli ingenti esborsi segnano in rosso il bilancio. I flussi di visitatori sono drasticamente calati, come ricorda il direttore Marco Crepaz, in luglio sono mancati gli stranieri, agosto in parte è stato coperto da turisti locali e delle regioni confinanti, ma per le scolaresche a causa dei nostri spazi ridotti le visite sono tutt'ora precluse. Andiamo avanti con la rubrica giorno e notte del Corriere delle Alpi. Il nuovo bando della Mongolfiera di Giorgia dedicato ad Alessio. Sarà dedicato al quindicenne Bortoluzzi, morto sulle rive del Piave e figlio di due soci. La presentazione dei progetti sarà fatta il 23 ottobre a Villa Pat. Giorgia Plarolan, morta per malattia nel 2016, a cui è intitolata l'Associazione Mongolfiera di Giorgia, che vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Passiamo alla lettura delle previsioni del meteo in Veneto per la giornata di domani. nuvorosità irregolare più consistente in pianura, altamente alternata a schiarite più significativi in montagna al pomeriggio, specie sui settori più occidentali. Precipitazioni sulla pianura sudorientale e costa, probabilità medio-alta di precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. Altrove, probabili precipitazioni notturne, con limite della neve intorno a 1.700-1.800 metri sulle prealpi, sulle dolomiti generalmente assenti. Venti in pianura deboli, variabili salvo rinforzi, in quota da moderati attesi dai quadranti settentrionali, mari in prevalenza mosso. Temperature minime in diminuzione, massimi in rialzo, salvo sui settori sud-orientali della pianura, in quota dove risulteranno in diminuzione. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno, vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20, domani mattina a Luna, ora locale italiana. A voi tutti, un buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'associazione bellonesi nel mondo.